La domanda di questo mio utilizzare, questa metafora, tante piccole immagini, la presentazione di Pensando con le mani, non so, possibilmente rappresenta varie cose, ma ci sono due tribù secondo me di persone che comunque non ha bisogno di tradurre fisicamente a qualcosa immediatamente il proprio pensiero e che comunque si diverte molto a avere questo tridunione molto forte fra la mano e il pensiero e che in quel modo è un po' artigiano e in tutto questo mio lavoro con l'industria e anche quando era portato all'architettura dove comunque ci sono anche altri supporti per lavorare e comunicare con loro, il modellino, il modello, questo momento così fortemente artigianale nel processo anche di ideazione dello studio, per me è importante, racconta, non so, ha un gradiente di libertà che va sempre molto soppesato.